buongiorno a tutti e tutte sono il vostro presidente del consiglio voglio aggiornarvi su alcune misure importanti che sono appena entrate in vigore per inaugurare la fase 25 di questa pandemia dato il fallimento di tutte le fasi precedenti siamo finalmente giunti alla fase che dichiariamo forse definitiva stamattina ho avuto un meeting con ursula von der leyen e abbiamo deciso alla unanimità con la presidente francese françois verger la spagnola ada colau il greco varufakis la presidente tedesca carola racchette la svedese thunberg di eliminare dai nostri vocabolari la parola debito tutte le pubblicazioni cartacee saranno revisionate mediante la tecnica emilio esgrò sarà proibito pronunciarlo crearlo averlo e diffonderlo chiunque farà indebitare qualcun altro verrà chiuso in recinti di plexiglass senza acqua sulle spiagge del riminese se qualche imprenditore sta pensando che la suddetta pena sia dopo tutto sopportabile vi ricordo in quali condizioni versava il prigioniero che forse vi è stato detenuto più a lungo come tutti sanno l'ex presidente della regione lombardia attilio fontana per eliminare de facto il concetto di debito dalle nostre menti stamperemo moneta euro in banconote da 5 10 20 50 100 e 200 da oggi grazie al famoso trattato internazionale abbondanza finché ce n'è bisogno con il nostro programma del ministero della salute presieduto da gino strada abbiamo deciso di seguire il modello dei presidi territoriali di mutuo aiuto delle brigate volontarie per l'emergenza promosse da tutti i centri sociali e dall'associazionismo diffuso sul territorio italiano per fornire tamponi test sierologici e monitoraggio dei contagi per favorire una cura certa a tutti coloro che ne hanno bisogno attraverso il rilascio di dataset digitali sulla situazione sanitaria come sapete il virus non fa più paura a nessuno in sole tre settimane abbiamo avviato anche i nuovi programmi scolastici riqualificando gli immobili abbandonati ai giardini che avevamo a disposizione particolare attenzione va al programma con cui abbiamo trasformato gli elicotteri della polizia e gli f35 in dotazione dal ministero della difesa in giardini di pomodori melanzane rosmarino e fighi attraverso cui stanno rilanciandosi grigliate conviviali particolare ringraziamento va agli ingegneri del genio civile che hanno trasformato le pale degli elicotteri in innaffiatoi temporizzati a spruzzo attraverso la creazione ex nilo di euro a volontà stiamo garantendo su base europea un reddito universale incondizionato a tutti i cittadini di almeno 1000 euro al mese questa misura sta dando ottimi risultati segnalo la diminuzione drastica dei femminicidi domestici dando la possibilità a chiunque di vivere nella casa che desidera senza ricatti economici e infine gli ex lavoratori del settore delle pulizie consegne a domicilio e badanti hanno iniziato il programma ti insegno gratuitamente a pulire e cucinare a casa tua adesso hai tempo e ci pensi tu abbiamo per questo avviato nelle scorse settimane il processo di revisione costituzionale per la modifica dell'articolo 1 da oggi la repubblica italiana non è più fondata sul lavoro ma sulla cura ringrazio infine la consulenza del virus corona covid 19 che da pericoloso serial killer si sta dimostrando negli ultimi giorni un collaboratore di giustizia ambientale intelligente nella costruzione di un ecosistema sostenibile fra due minuti scade il mio mandato colgo l'occasione per dare le mie dimissioni ringrazio tutti i miei collaboratori e collaboratrici siamo in quarantena e le giornate sembrano volare ma speriamo di aver fatto qualche cosa di utile un saluto a tutti ea tutte